Anche la app di OneFootball sottolinea il momento delicato di Chris Piontek, autore di un gol contro la Juventus ormai un mese fa e da tante domeniche mai protagonista. E allora qualche tifoso incomincia a chiedersi, Chris Piontek, pum pum pum, il cacciatore d'Italie fu vera gloria? Quel Piontek che abbiamo visto all'inizio della sua avventura rosso-nera, all'inizio della sua avventura italiana, era il vero Piontek o è questo il giocatore impacciato, il giocatore che fa fatica, il giocatore che non riesce se non in qualche occasione a liberarsi dell'uomo e ad aiutare la squadra? Anche contro la Fiorentina è stato il solito Piontek, l'ha isolato, ma quello che preoccupa non è il fatto che Piontek non realizzi. È capitato a tanti altri giocatori di avere una pausa, tra virgolette, di riflessione per quello che riguarda i gol. Però quello che preoccupa oggi di Chris Piontek è la sua timidezza, il fatto che non si crei o che sbagli, preferisco un Piontek che sbagli sotto rete, piuttosto che un Piontek che sotto rete non ci va mai vicino alla rete. E soprattutto quello che preoccupa è il fatto che quando arrivano questi palloni, a volte sporchi, a volte imprecisi, a volte di difficile gestione, mai riesca a gestirli. Sul contrasto con l'avversario, Piontek perde spesso il pallone per l'aitanza dei difensori centrali, non riuscendo se non raramente a distribuire qualche pallone. Insomma, il Piontek che evita con uno scatto una finta colibali, ricordiamo quel lontano Milan-Napoli, per poi battere implacabilmente il portiere avversario, non lo vediamo più. In effetti, ed ecco i difensori, l'unica volta che ha avuto una palla solo davanti al portiere, ricordo ancora, in occasione del match contro la Juventus, gol del Milan, è stato ancora una volta implacabile. Allora ci si pone il problema. Poco servito, servito in poche verticalizzazioni per lui che dice però Gattuso deve cercare di più la profondità. Momento di involuzione di Piontek. Ma questo momento di involuzione, ripeto, preoccupa meno il Milan, cerca di realizzare gol con altre vie. Ma quello che oggi è stato ci si pone il problema, è il centravanti del futuro? È l'implacabile centravanti che serve al Milan per la prossima stagione e per le prossime stagioni? È questo pallido o quello rovente di qualche mese fa? Questa è la domanda che qualche tifoso incomincia a porsi con ruga di preoccupazione. Io direi che vorrei dare il mio giudizio, in effetti anch'io non sono contento della gestione in generale. Vedo troppi palloni persi, vedo troppe situazioni nel quale lui non entra da protagonista potente, veloce. Il solito cutrone dà sempre l'impressione di più di esserci sul pallone, pur nonostante anche lui in questo momento non sia fortunato sotto rete avendo poche occasioni non solo di tirare ma di giocare. Quindi lo vedo anch'io, lo vedo anch'io, lo vedo anch'io, lo vedo anch'io e anch'io sono preoccupato perché lo vorrei più protagonista. Arrivo un pallone, lo difendo, cerco di superare l'uomo con un dribbling raro in queste ultime settimane e poi il tiro che può finire dentro o fuori e quindi, non so, bisognerà adesso il Milan, la prossima stagione magari troverà un'altra formula di gioco. Il signor Bakayoko, anche ieri, brillante fra i migliori della squadra, non ha le caratteristiche per alimentare il gioco dell'offensivo del Milan perché è il giocatore che prende il pallone, lo difende, lo recupera, viene avanti con la sua falcata ma, uso una parola, cioè non nuova, che usa sempre Gattuso, l'imbucata non ce l'ha nelle corde. Bakayoko l'imbucata non ce l'ha nelle corde. Io sogno un Milan, Ambrosini, Gattuso, Pirlo, Bakayoko che sì è un qualcuno. Non mi rassegno all'idea che Bakayoko ma mezzana lo preferiamo lì. No, lì è un modo anomalo che non favorisce l'attacco. Il Milan tira poco perché c'è Bakayoko, bravissimo a recuperare e a cercare di venire avanti, ma mai quando arriva guarda sempre o Suso o Abate o Riccardo Rodriguez, non punta là e quindi ci sono delle attenuanti per Pionte. Però lo vorrei vedere, più protagonista, anche quei pochi palloni gestiti meglio, gestiti da grande centravanti, una finta, un dribbling, un tiro, non è successo mai in queste settimane. Se vi è piaciuto questo video un po' preoccupato mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pelegatti.